Portateci quel cane e gli daremo degna sepoltura. Lo dichiararono qualche settimana fa ad otto pagine Anna Rossi e Lisa Palma, le titolari del riposo di Snoopy, il cimitero per animali di Baiano. Anna e Lisa mantengono quella promessa e questa mattina colgono nella propria struttura di Baiano le spoglie del povero Cucciolo, il randaggio che venne barbaramente ammazzato dopo disumane torture l'8 ottobre scorso a Mugnano del Cardinale. La storia di Cucciolo è davvero raccapricciante. L'animale venne legato alle zampe da una spessa corda di plastica e trascinato per diverse centinaia di metri sull'asfalto viscido, ruvido della variante di Mugnano del Cardinale e venne poi lasciato lì a terra ancora agonizzante finché non sopraggiungesse la morte. Oggi a quell'atto vile, a quell'atto barbaro, le associazioni animaliste non solo del mandamento baianese nella provincia di Avellino, provano a dare una risposta in termini di dignità favorendo la cremazione dell'animale e la conservazione delle sue spoglie nel cinerarium del cimitero per gli animali di Baiano. Abbiamo ricevuto questa informazione che è stato trovato il cane in una situazione molto disumana. La prima cosa che è venuta fuori è stata quella di prendere subito la salma per potergli poi dare una sepoltura, di potergli un'ultima dimora. Vogliamo dare quest'ultimo saluto a Cucciolo per dare parola a chi parola non ha, perché queste violenze non accadino più, sperando in una risposta positiva da parte di quell'essere umano, se così vogliamo chiamarlo.